... Alberto, tu sei? Che...che è successo? Ognè, ho giocato alla roulette Ma la roulette giocando... E' andata male, eh? Però per fortuna Ho...ho saputo fermarmi in tempo Si Infatti, ecco... C'è il fatto di sapersi fermare E' importante Vabbè, io...vado che... Eh vabbè C'è una sigaretta? No No perché? Non ho l'accendino Anche quella... Va bene Si C'è una scena...